14 pannelli realizzati nel 2014 in occasione dell'inaugurazione della casa dedicata a José Ortega, l'artista spagnolo che denunciò le brutalità della dittatura franchista e che ha vissuto a Matera negli anni 70. 14 opere che portano la firma del fumettista materano Giuseppe Palumbo, figlio di Franco Palumbo, colonna portante della Circo La Scaletta, con cui Ortega era entrato in contatto grazie ad una conoscenza in comune. L'inaugurazione della mostra è in un aggiorno speciale. Il 14 aprile del 1973 Ortega arriva qui con Raffaello Alberti, quindi celebriamo questo ritorno dopo 50 anni attraverso i racconti illustrati di Giuseppe che raccontano passo passo la vita tormentata e speciale di Ortega. Ciò che Matera ha offerto a Ortega dal punto di vista artistico è strettamente legato alla tradizione al 2 luglio, giorno della festa patronale della città dei Sassi. Entra così in contatto con i cartapestai materani e sperimenta le tecniche tradizionali di lavorazione della cartapesta applicate alla sua arte di incisore. Questa sperimentazione lo condurrà a fare un'importante rivoluzione nella sua espressione artistica, ossia l'impiego della terza dimensione. Da questo incontro nasceranno i 20 capolavori custoditi oggi in quella che viene definita casa Ortega, posto di cui Ortega si innamora. Ortega si innamorò di questo posto ma non potendo completare l'acquisto perché era apolide, chiese a mio padre, che era un suo amico fraterno praticamente, per me era quasi uno zio Cosè, chiese a mio padre di completare l'atto d'acquisto e quindi mio padre, per me è come tornare a casa in un certo senso. Quindi per me ricordare la figura di mio padre e di Cosè e della loro amicizia è la cosa più importante oggi. Poi credo che queste siano le storie che hanno significato profondamente qualcosa per Matera e possono ancora sostanziarle se le riconosciamo in quanto tali. Un rapporto privilegiato, quello che Giuseppe Palumbo da giovanissimo ebbe con Ortega. Ho avuto la fortuna di fargli vedere anche i miei primi fumetti, quindi lui una volta mi ricordo mi disse non sentirti vincolato dai colori, il cielo non deve essere per forza blu. Mi disse, questo per me fu una specie di rivelazione perché invece io cercavo di rendere il cielo più cielo possibile, invece no, mi spiegò il valore emotivo del colore. La mostra, ricordiamo, rimane visitabile fino al 25 di giugno.